Guida, passione e sicurezza G P S GPS Il magazine dedicato ai motori Le protagoniste di oggi La sportività della nuova Nissan 370Z Abbiamo testato l'ibrida per tutti, Honda Insight Il vento caldo di Volkswagen, la Scirocco E conosceremo un collezionista di automobili Nissan rinnova la sua sportività Dalle ceneri della 350 nasce un'evoluzione ancora più performante Con più di 300 CV Abbiamo il piacere di mostrarvi la nuova Nissan 370Z Nuovo design, nuovi motori, ma stesso carisma Per fortuna, piano piano, si stanno progettando auto sempre più ecologiche Ma è solo l'inizio Abbiamo testato la Honda Insight Speriamo che in futuro siano tutte così E ancora più verdi Dall'Africa prende vita lo Scirocco Un vento caldo che riscalda tutta l'Europa E Volkswagen l'ha trasformato in un'auto Che dalla Germania riscalda tutto il mondo Se vi dicessi che conosciamo qualcuno che ha più di 8.000 auto Ci credereste? Beh, vedere per credere Per oggi è tutto Ma torniamo la settimana prossima Grazie a tutti Grazie a tutti